Il Movimento 5 Stelle si prepara a voltare pagina, la strada scelta sembra essere quella della convocazione degli Stati Generali, come emerso ieri dall'Assemblea di Deputati e Senatori. Ma all'interno restano posizioni diverse e serve una leadership collegiale, ripete Roberto Fico, che auspica un accordo con il centro-sinistra per le comunali del 2021. Zingaretti avverte l'esecutivo è come una bici, se non si muove cade. E in attesa della prima udienza, il 3 ottobre a Catania del processo per il caso Gregoretti, l'ex ministro dell'interno Salvini potrebbe essere rinviato a giudizio anche a Palermo per la vicenda Open Arms. Sono tranquillo e ho fiducia nella giustizia, dice Salvini, che promette battaglia sui decreti sicurezza che il governo vuole modificare. Intanto il numero 2 della Lega, Giorgetti lancia l'allarme sulla futura legge elettorale. Il proporzionale sarebbe un disastro per l'Italia. Non basta il patto dell'Unione Europea sui migranti, serve di più la ministra dell'interno Lamorgese, critica sulla strategia annunciata da Bruxelles. A Olbia intanto è arrivata la nave Alan Kurdi, che da giorni era in cerca di un porto sicuro. A Pozzalle invece la guardia costiera blocca l'imbarco del team sicurezza della Mare Ionio, perché registrata come cargo e non come nave soccorso. 5 milioni contagi da coronavirus in Europa, record in Francia con oltre 16 mila casi in 24 ore. Il governo non esclude un nuovo lockdown, ma è già polemica, rivolta a Marsiglia contro la chiusura di bar e ristoranti. Intanto l'OMS elogia l'Italia, ha reagito al Covid con forza meglio di chiunque altro. La strada è ancora lunga, avverte il nostro speranza che invita la prudenza, anche se la situazione resta sostanzialmente stabile, nonostante un lieve incremento dei casi. Diffuso coinvolgimento di Fontana della sua evidente volontà di non lasciare tracce con messaggi scritti, parla il pubblico ministero del caso Camici. L'inchiesta sulle forniture di presidi anti-Covid ha segnata alla società del cognato del governatore della Lombardia. Insieme alla moglie di Fontana, rileva il PM, avevano la piena consapevolezza del conflitto di interessi, ma cercavano nuove occasioni di guadagno. Nessun reato scritto e falsità assoluta. L'indomani delle dimissioni, il cardinale Angelo Becciu risponde e respinge le accuse di aver favorito i familiari dirottando fonti del Vaticano. Per decisione di Papa Francesco, Becciu ha rinunciato alla carica di prefetto della congregazione delle cause dei Santi e ai diritti connessi al cardinalato dopo che il suo nome era entrato nell'inchiesta per l'acquisto a Londra di un immobile per 200 milioni di euro. Sono arrivati questa mattina a Perugia i legali della Juventus, Luigi Chiappero e Maria Turco. I due avvocati sono stati ascoltati dai pubblici ministeri che indagano per corruzione sull'esame farsa di Luise Suarez, l'attaccante, ora l'Atletico Madrid, che il club bianconero voleva acquistare. Dalle intercettazioni sarebbero emersi i nomi di altri dirigenti bianconeri. Buongiorno e bentrovati dalle telegiornale della Sette. Dunque va avanti il confronto all'interno dei partiti dopo il voto nel centro-sinistra. Zingaretti chiede al governo un cambio di passo, ma le fratture che ci sono all'interno del Movimento 5 Stelle rischiano di rallentare l'agenda del governo chiamato a rispondere a una sfida importante, quella del Recovery Fund. All'indomani dell'assemblea di ieri del Movimento 5 Stelle il presidente della Camera FICO si dice comunque ottimista sulla tenuta della maggioranza. Divisioni nervitesi, correnti e big assenti inizia così il lungo percorso verso il congresso del Movimento 5 Stelle, ossia gli stati generali, la cui data non è stata ancora fissata. Assenti FICO, Di Maio, come gli altri ministri, ad eccezione di Azzolina e Dadone, assente anche l'ex ministra Lezzi, oggi molto vicina a Di Battista, presente invece Vito Crimi, fino all'ultimo dato per possibile assente, in polemica con gli oppositori interni. L'assemblea congiunta di deputati e senatori di ieri, durata quattro ore, si conclude con la messa in campo di tre proposte per il futuro del Movimento, illustrate dal reggente Crimi. Votare subito un nuovo capo politico tramite voto sulla piattaforma Rousseau, creare una segreteria politica sul modello direttorio già sperimentato, oppure, ipotesi che sembra prevarrà, convocare subito gli stati generali accompagnati dalle assemblee territoriali e una commissione ad hoc di una decina di componenti. Solo nei prossimi giorni si capirà quale strada sceglieranno i deputati. Le polemiche però non si spengono. Dopo le accuse dei giorni scorsi di Di Battista, il rischio scissione paventato da Carla Ruocco e il tentativo di mediazione di Grillo con il riferimento alla piattaforma Rousseau e le sue dichiarazioni sulla democrazia diretta, le posizioni tra le varie correnti sul futuro e l'identità del Movimento rimangono distanti. Serve una leadership collegiale, ribadisce il presidente della Camera Roberto Fico, ma ci vuole un luogo di discussione, dice, un luogo che sia reale e anche partecipato in rete. La maggioranza è salda, non è il momento di dividerci e rilancia l'idea di un accordo anche per le amministrative del prossimo anno con il centrosinistra, su Roma come su Napoli e le altre città. Sono convinto, dice, che per il bene generale dei comuni italiani vada fatto un accordo che sia prima di tutto nazionale tra le forze politiche di maggioranza. Abbiamo tradito i nostri valori con un metodo verticistico, dobbiamo cambiare lo statuto, dice invece il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra. Anche da Max Bugani arriva una bocciatura, a decidere deve essere Rousseau, non i parlamentari via mail. Quindi un accordo tra le varie correnti al momento sembra lontano e la spaccatura all'interno del movimento frena anche l'agenda di governo. Nel vertice di maggioranza di ieri si è trovato un'intesa preliminare solo sul 5G, mentre rimangono sospesi gli altri temi sul tavolo, dalla legge elettorale al capitolo MES, passando per la revisione dei decreti sicurezza. Le questioni interne ai 5 Stelle hanno indotto gli alleati a dare ai pentastellati un po' di tempo, anche se è proprio il segretario Dem, Zingaretti, a lanciare un avvertimento. L'esecutivo è come una bici, se non si muove cade. Poco fa le dichiarazioni di due esponenti del governo, il ministro degli Esteri Di Maio, bene il confronto interno, però voglio dire anche rapidità e mettiamo sempre al centro il Paese, riferendosi appunto alla definizione della nuova leadership del Movimento 5 Stelle. Poi c'è anche la dichiarazione del guardasigilli, Buonafede, che invita a non fare più divisioni e polemiche, basta con divisioni e polemiche, siamo una forza politica che è sempre stata unita e compatta per lavorare con i cittadini. Ma anche il centro-destra non è immune da un acceso dibattito, ancora una volta al centro c'è il leader della Lega Salvini, che dopo Catania potrebbe andare a processo anche a Palermo per la vicenda Open Arms. Intanto la Lega lavora alla riorganizzazione del partito con una nuova segreteria politica, restano però i malumori con gli alleati, ma ci sono anche delle voci in disaccordo all'interno della Lega. Se tenteranno di cancellare i decreti sicurezza, ci opporremo in tutti i modi dentro e fuori il Parlamento. Più che una minaccia è una promessa, quella che Matteo Salvini lancia dalle pagine di Libero a proposito dei decreti che regolano l'immigrazione e che portano la sua firma, argomento bollente per il leader della Lega che fra pochi giorni dovrà affrontare la prima udienza del processo Gregoretti e in seguito quasi certamente quella del processo Open Arms, dove l'ex ministro dell'interno è imputato per aver lasciato svariati giorni migranti a bordo delle navi impedendone lo sbarco. Difendere i confini, le leggi e la sicurezza del mio paese non era mio diritto ma mio dovere, sono assolutamente tranquillo e ho fiducia nella giustizia, ripete Salvini che sul futuro del governo non cambia idea. Bisogna costruire un percorso concordato insieme alla maggioranza e con la supervisione del Quirinale che porti alle elezioni politiche entro il prossimo luglio. Voto che avrà però bisogno di una nuova legge elettorale che correga le distorsioni create dall'appena approvato taglio dei parlamentari. Salvini dice che l'argomento non lo appassiona, interessa invece Giancarlo Giorgetti che rivendica di aver votato no al referendum. Il taglio ha purtroppo aperto la strada ad una legge elettorale proporzionale che sarà un disastro perché il paese ha bisogno di stabilità e governi certi, dice il numero due del partito, convinto che il maggioritario sia la scelta più giusta perché è il modello migliore per avere parlamentari di qualità che rispondono al territorio, si sentono vincolati e coltivano il rapporto con sindaci ed associazioni. Intanto in via Bellerio si procede alla riorganizzazione interna al partito. Il primo passo sarà la creazione della segreteria politica annunciata da Salvini che dovrà affiancarlo e consigliarlo nelle scelte che non sempre si sono rivelate vincenti, anzi hanno creato diversi malumori. Vedi le regionali dove il segretario è stato criticato per la campagna elettorale impostata male, troppo social e poco vicina ai territori o la mancanza di chiarezza sul referendum e sulle posizioni transincenti e anti-europeiste dell'Unione. Insomma la moderata del partito chiede di essere ascoltata maggiormente e di avere più voce in capitolo. Quanto alla possibilità che la leadership di Salvini possa essere minata dall'interno, almeno per ora non sembrano esserci rischi. Il successo di Luca Zaia non insidia Salvini anche se il governatore del Veneto reclama un ruolo di primo piano nel dettare l'agenda sui temi più caldi, autonomia, cantieri e riforma sanitaria. Avete sentito Salvini che ha preso una posizione sui decreti sicurezza e anche sui migranti. Innanzitutto questa mattina ad Olbia è sbarcata l'Alan Kurdi che aveva salvato in mare 125 persone. La nave era diretta a Marsiglia ma a causa delle cattive condizioni del tempo. Il Viminale ha autorizzato lo sbarco in Sardegna. C'è stata la protesta di alcuni leghisti proprio contro questa decisione. Soltanto 25 migranti rimarranno in Italia, ha detto il ministro dell'Interno Lamorgese. Tutto mentre è pronto il decreto che dovrebbe superare i decreti sicurezza, quelli voluti da Salvini, ma sullo sfondo resta il piano di Bruxelles. La proposta della Commissione europea dovrà essere corretta. Ci sarà molto da lavorare e da trattare. La ministra Lamorgese non ha nascosto la sua insoddisfazione per il testo presentato a Bruxelles. Non c'è il superamento di Dublino. Secondo Lamorgese, al centro del negoziato ci dovrà essere l'abolizione del principio in base al quale il paese di primo ingresso ha la responsabilità esclusiva dei migranti in arrivo. Dal fronte europeo a quello interno. E allo studio la bozza del Viminale che corregge i decreti sicurezza legati al nome dell'ex ministro Salvini. Nel testo si prevede non solo il cambiamento dei termini obbligatori per il riconoscimento della cittadinanza italiana da 48 mesi a 36 mesi, ma anche delle sanzioni perali per le ONG, con multe che vanno dai 10.000 ai 50.000 euro in quei casi in cui le navi non si attengano al divieto di transito nelle acque territoriali italiane. Divieti che dovrebbero essere meno stringenti rispetto ai decreti sicurezza, con multe decisamente meno salate per le ONG. Una situazione di incertezza fotografata dall'attualità di queste ore. Da una parte, infatti, è stato autorizzato lo sbarco della nave Alancurdi nel porto di Olbia. Questa mattina la nave è attraccata, 125 migranti a bordo e l'equipaggio sono stati sottoposti a tampone. Solo a seguito dei risultati dei test potrà partire il piano di smistamento europeo dei migranti, 25 quelli che rimarranno in Italia. Ieri sera, nel porto di Pozzallo, la Guardia Costiera ha invece comunicato il diniego all'imbarco di due membri dell'equipaggio della mare Ionio, che così non potrà partire in missione per salvare migranti nel Mediterraneo centrale. E questa la discontinuità si chiade Erasmo Palazzotto di Leu su Twitter. Ma non avevamo cambiato il ministro dell'interno, scrive. L'obiettivo di fondo di questo governo sembra essere lo stesso del governo precedente, impedire che vengano salvate vite in mare per non gestire il fenomeno migratorio sulla terraferma, aggiunge Palazzotto in una nota. Mentre a Lampedusa è iniziata l'ultima fase dello svuotamento dell'hotspot dell'isola. La navi quarantena Rhapsody e Azzurra stanno ultimando l'imbarco di un migliaio di migranti che erano ospiti nella struttura. La diffusione delle virus in alcuni paesi europei preoccupa sempre di più. C'è il caso della Francia, metà del territorio è ad alto rischio. In alcuni dipartimenti sono state prese delle misure drastiche che hanno creato delle frizioni con le autorità locali, come per esempio a Marsiglia. Ci sono poi i casi della Spagna. Il governo centrale stende le misure restrittive fino ad un milione di persone nella regione di Madrid. C'è poi il caso della Gran Bretagna. L'Italia, come ha detto ieri la Commissaria della Salute Europea, è tra i paesi a basso rischio. E questa mattina l'OMS rende omaggio al nostro paese per come ha gestito la pandemia. L'Italia è il primo paese occidentale ad essere stato pesantemente colpito dal Covid-19. Il governo e la comunità a tutti i livelli hanno reagito con forza e ribaltato la traiettoria dell'epidemia con una serie di misure basate sulla scienza. L'elogio tramite un video immediatamente rituitato dal Premier Conte arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che riconosce all'Italia, attraverso testimonianze e immagini dei mesi scorsi, il merito di avere saputo reagire meglio di chiunque altro alla pandemia. Per questo, nei giorni in cui in Europa si superano i 5 milioni di contagi, i nostri numeri fanno meno paura degli altri. L'incremento, 1786 casi ieri contro i 1640 del giorno precedente, è costante ma contenuto, un motivo in più per continuare a mantenere alta l'attenzione. Ben diversa la situazione nel resto d'Europa, Francia in primis. I dati di ieri sera sono arrivati come una doccia fredda. Oltre 16 mila nuovi casi in un solo giorno, il picco più alto dall'inizio della pandemia. L'allerta è massima in gran parte del paese e se il presidente Macron continua a ritenere necessario imparare a convivere con il virus senza troppe restrizioni, i suoi ministri appoggiati dalla comunità scientifica non sono dello stesso parere. Il premier Castex non esclude un nuovo lockdown nazionale e il ministro della Sanità Olivier Verat questo pomeriggio sarà a Marsiglia, dove centinaia di persone sono scese in strada per contestare la decisione di chiudere da domani bar e ristoranti per almeno due settimane. A Madrid, sin dall'inizio principale mai sedato, focolaio e spagnolo, poco fa sono stati annunciati nuovi confinamenti che portano a ben oltre un milione le persone a cui l'esercito impedisce spostamenti da perimetri ben stabiliti. Qui si viaggia ad un ritmo di oltre 11 mila nuovi casi al giorno, in costante aumento. Preoccupante è anche l'evoluzione in corso in Gran Bretagna, dove giornalmente si batte un record negativo, ossia come numero di contagi, ormai attorno ai 7 mila che decessi. Più sotto controllo, ma comunque seria, è la situazione in Germania, che sconta circa 2 mila nuovi infetti al giorno, per lo più persone di ritorno dalle vacanze. Per questo oggi il ministro della Salute ha sconsigliato ai tedeschi viaggi all'estero in autunno e inverno. Intanto oggi sono scesi in piazza gli studenti. Da giugno siamo scesi in piazza più volte per chiedere il rientro in classe in sicurezza. La scuola è cominciata, ma il problema non è stato affrontato. Questa è la denuncia degli studenti che oggi, appunto, dicevo, hanno manifestato nelle principali città italiane, tra cortei autorizzati e non. Oggi i primi flash mob. Pochi giorni fa, l'inizio del nuovo anno scolastico, i ragazzi sostengono temi come la mancanza delle personali docenti, la scarsa manutenzione degli edifici e decenni di precariato, tutto aggravato dalla pandemia, proteste senza disordini, e torneranno in piazza il prossimo 10 di ottobre. Oggi, poi, ha protestato anche la giovane attivista svedese Greta Thunberg davanti al Parlamento di Stoccolma. Manifestano anche gli attivisti di Fridays for Future contro il cambiamento climatico post-Covid. E a proposito di scuola, restiamo sempre a Milano, perché queste immagini si riferivano alla manifestazione di Milano, davanti all'ospedale San Paolo è stato allestito un drive-in dove vengono fatti i tamponi rapidi dedicati agli studenti, i docenti, al personale scolastico. Per il figlio, sì, che all'attività sportiva è risultato un compagno positivo. Ho uscito a contattare la pediatra solo telefonicamente, quindi mi ha detto di venire direttamente qua e niente, eccoci qua, anche perché sennò non può tornare a scuola. Scorre ininterrottamente il flusso delle auto al punto tamponi drive-thru dell'ospedale San Paolo di Milano, postazioni istituite in Lombardia, Veneto-Lazio, per effettuare rapidamente il test, stando in auto a maggiore tutela della salute. In quasi tutte le auto ci sono bambini, minori accompagnati, perché da quando hanno riaperto le scuole qui è stato un vero e proprio boom, è stato aperto un vero e proprio padiglione dedicato alla scuola. In questa azienda ospedaliera ci sono due punti prelievi e dopo la riapertura delle scuole si è arrivati a picchi di 1200 tamponi al giorno con code di ore. Da un paio di giorni la situazione è stabilizzata. Nel caso di studenti che scoprono di avere la febbre o il docente scopre che questo studente sta male e ha della sintomatologia simil-covid, a questo punto la scuola chiama i genitori, scrive in qualche modo, autorizza in qualche modo, ci dà segnalazione in qualche modo che è la scuola a inviarcelo, quindi è possibile che i genitori lo portino immediatamente qui nel servizio ad accesso diretto. Andiamo verso l'inverno, una stagione in cui ci si ammalerà molto di più. C'è il pericolo che si torni all'intasamento? Il rischio di intasamento c'è senz'altro. Io, se posso, consiglierei la vaccinazione per favorire la diagnosi differenziata tra l'influenza tra l'oretta stagionale e il covid. Stessa raccomandazione in Veneto da parte del neorie letto governatore Zaia. Andare a fare il tampone solo su indicazione del medico, non ad ogni raffreddore. I test ci sono, ma si rischiano intasamenti. In questo ospedale milanese il laboratorio analisi processa campioni anche di notte. Si tratta di tamponi molecolari e i risultati sono pronti in 24-48 ore. Per alunni e personale sanitario i risultati dovrebbero arrivare entrosera, ma con i picchi dei giorni scorsi non sempre è stato possibile. Dal 21 ad oggi non ho ancora l'esito dei miei figli. Sul sito non riesco a capire come si possa avere qualche informazione in più. Al telefono nessuno mi dice nulla, per cui sono venuta di persona a richiedere il referto. Nel Lazio sono disponibili per le scuole i tamponi istantanei utilizzati già in molti aeroporti italiani per chi rientra dall'estero. Esito in pochi minuti e se negativo si torna in classe. Restiamo sempre a Milano con due inchieste. Intanto cominciamo da questa perché è in corso nelle carceri di San Vittore l'interrogatorio di Luca Sostegni. Lo ricorderete, il presunto prestanome al centro di quella inchiesta sulla compravendita da parte della Lombardia Film Commission di un immobile a Cormano, operazione per la quale si creò un illecito di 400 mila euro. Sostegni accusato di reati fiscali, peculato e distorsione. Infatti per tacere su quelle operazioni avrebbe chiesto ottenuto del denaro dai commercialisti vicino alla Lega e allora a volta coinvolti nell'inchiesta. E poi ci sono aggiornamenti, novità per quanto riguarda invece l'inchiesta milanese sulle forniture di presidi anti-Covid assegnata alla società del cognato del governatore della Lombardia Fontana indagato per frode in pubbliche forniture. Vediamo. Attilio Fontana era al corrente sin da subito che la fornitura dei 75 mila camici da 513 mila euro avvenuta in piena emergenza Covid avrebbe innescato un conflitto di interessi visto che la società fornitrice la dama S.p.a. era al 90% del cognato Andrea Dini e al 10% della moglie. Il governatore della Lombardia indagato dalla procura di Milano per frode in pubbliche forniture ha sempre sostenuto che per caso dal suo staff era venuto a conoscenza dell'accordo solo l'11 maggio e poi a giugno dalle inchieste di report. Ma dal contenuto dei messaggi dei cellulari della moglie, di suo fratello e di altri indagati emerge un quadro che sembrerebbe smentire la posizione del presidente della regione Lombardia. I magistrati milanesi parlano di un diffuso coinvolgimento di Fontana in ordine alla vicenda relativa alle mascherine e ai camici accompagnato dall'apparimenti evidente volontà di evitare di lasciare tracce del suo coinvolgimento mediante messaggi scritti. Il 16 aprile Andrea Dini, anche lui indagato cognato del governatore informa la sorella Roberta moglie di Fontana ordine camici arrivato ho preferito non scriverlo da atti lei risponde giusto, bene così. E ancora, secondo i magistrati Dini avrebbe fornito una falsa giustificazione al giornalista di report che aveva svolto un'inchiesta su quella commessa come si evince da una serie di sms scambiati tra fratello e sorella in cui questo la informa di aver detto che si tratta di una donazione. Di donazione su quella commessa ha sempre parlato anche Fontana e ancora per i PM un ruolo decisivo per consentire alla società del cognato di riconvertirsi e formulare un'offerta fu svolto dall'assessore Raffaele Cattaneo responsabile della Task Force regionale che al momento non è indagato ed è stato sentito in estate come persona informata sui fatti moglie e cognato sembrano più che consapevoli del conflitto di interessi che si veniva a creare dagli sms scambiati il 25 maggio è sempre la moglie a dire al fratello che per giustificare la donazione il governatore ha bonificato alla dama SPA 250.000 euro il fratello risponde che un bonifico tra privati e rischioso non va bene spero non l'abbia fatto risponde lei nelle chat è bene specificarlo non ci sono però sms riferibili direttamente al governatore Fontana a Roma adesso perché i legali della famiglia di Stefano Cucchi hanno denunciato oggi un nuovo caso di interferenze illecite nel processo in corso che vede imputati otto carabinieri per la morte del giovane avvenuta nel 2009 l'EPM Giovanni Musaro scrive l'avvocato Anselmo in un post su Facebook ha denunciato in aula nuovi depistaggi e documenti in possesso all'imputato testa armata che non poteva avere non abbiamo finito scrive ancora l'avvocato Anselmo e non finiremo mai di subire interferenze illecite e ora occupiamoci di quanto è successo in Vaticano il Papa ha fatto dimettere il cardinale Angelo Beccio non è più prefetto della congregazione delle cause dei Santi Bergoglio gli ha contestato delle condotte scorrette nell'utilizzare i soldi della segreteria si difende Monsignor Becciu all'indomani delle repentine dimissioni chieste e ottenute da Papa Francesco che lo hanno non solo privato dell'incarico di prefetto della congregazione delle cause dei Santi ma anche delle prerogative cardinalizie non potrà partecipare al prossimo conclave ad esempio ebbene all'indomani di questo terremoto il prelato affida ad un'intervista al quotidiano il domani le sue ragioni che sostanzialmente convergono sul fatto che non avrebbe mai rubato nulla e tutto sarebbe stato rendicontato a partire dai lavori per 140.000 euro affidati su suo suggerimento alla ditta di uno dei suoi fratelli nell'annunziatura del Cairo e altri 100.000 euro versati alla Caritas perché aiutasse la cooperativa Spess guidata da un altro fratello specializzata nell'aiuto ai migranti soldi che dice adesso Angelo Becciu provenivano da un fondo che lui aveva a disposizione per aiutare enti e associazioni caritatevoli e che invece secondo le accuse sarebbero stati stornati dall'obolo di San Pietro altro fondo usato dal Vaticano per aiutare i bisognosi è anche molto probabile poi che sulla clamorosa decisione del Papa abbiano pesato le accuse rivolte sempre a Monsignor Becciu nei mesi scorsi a proposito della compravendita di un immobile a Londra un'azione speculativa del tutto lecita per Becciu che anzi rivendica con la Brexit ci abbiamo guadagnato ma che invece non sembra aver convinto i magistrati pontifici che su questa storia indagano dal 2019 la vicenda risale al periodo in cui Becciu era sostituto della segreteria di Stato e prese corpo con due denunce presentate dallo IOR e dal revisore generale al momento cinque funzionari risultano sospesi dall'incarico e un broker era stato prima arrestato e poi liberato dalla gendarmeria vaticana e Becciu proprio in questi minuti sta parlando con i giornalisti sta tenendo una conferenza stampa rinnovo la mia fiducia al Santo Padre diventando cardinale ho promesso di dare la vita per la Chiesa e per il Papa oggi rinnovo la mia fiducia poi si difende mi sembra strano di essere stato accusato di questo di peculato quei 100 mila euro è vero li ho destinati alla Caritas queste dunque le parole di Becciu e la sua difesa e adesso c'è un nuovo capitolo nell'inchiesta dei magistrati di Perugia sull'esame considerato farsa l'esame d'italiano che è stato svolto dal calciatore Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana come sapete sono indagati i vertici dell'Università per stranieri di Perugia oggi sono stati sentiti come persone informate dei fatti illegali della Juventus i legali di fiducia della Juventus sono stati ascoltati questa mattina dai magistrati di Perugia come persone informate dei fatti sono l'avvocato storico della società bianconera Luigi Chiappero e la collega Maria Turco è stata quest'ultima in particolare a seguire la pratica Suarez a contattare quindi il direttore generale dell'Università per stranieri di Perugia Simone Olivieri dove l'attaccante uruguayana avrebbe dovuto sostenere la prova di italiano effettuata poi il 17 settembre solo con un attestato B1 di conoscenza della lingua il calciatore uruguayano avrebbe potuto ottenere il passaporto e giocare così nella squadra Juventina un esame farsa l'hanno definito i magistrati durato solo 12 minuti durante i quali accusa la procura sono state formulate il giocatore solo domande concordate i finanziari avrebbero recuperato il file che la professoressa Stefania Spina avrebbe inviato all'esaminatore Rocca con i quesiti che in effetti sono stati poi posti al bomber ex Barcellona oggi all'Atletico Madrid ma in quella data il club di Torino aveva già rinunciato all'attaccante secondo la procura l'avvocato Chiappero avrebbe assistito ad una videoconferenza insieme all'avvocato Maria Turco il loro interlocutore il direttore generale dell'Ateneo per stranieri Simone Olivieri è indagato è stato il rettore dell'Università Statale di Perugia Maurizio Oliviero non coinvolto nell'indagine a mettere in contatto i dirigenti della Juventus con l'Università per stranieri ho svolto solo un ruolo istituzionale e invece per questo sono finito nel tritacarne ha detto ai magistrati ha riferito di essere stato contattato da una persona del club bianconero che non è il direttore sportivo Fabio Paratici ha specificato il rettore in un'intervista ma un altro dirigente un conoscente di vecchia data il dirigente della Juventus Federico Cherubini Oliviero ha detto di aver sentito Paratici solo dopo l'esame quando il direttore sportivo lo aveva voluto ringraziare per l'accoglienza ricevuta dal calciatore a Perugia e Parigi è ripiombata nelle terrore questa mattina anzi poco fa perché quattro persone sono state ferite a colpi di coltello nella strada in cui si trova la vecchia sede del settimanale Charlie Hebdo due dei feriti sono in condizioni gravissime un presunto attentatore è stato bloccato dalla polizia dopo una serrata caccia all'uomo si era pensato alla presenza di un altro aggressore ma la notizia è stata poi smentita la polizia ha invitato gli abitanti della zona a non uscire di casa le scuole sono state blindate fino a nuovo ordine nel 2015 la redazione di Charlie Hebdo fu bersaglio di un attentato terroristico rivendicato da Al-Qaeda che fece 12 vittime e adesso negli Stati Uniti domani la Casa Bianca annuncerà il nome della candidata che sostituirà la Ginzburg in Senato intanto la maggioranza repubblicana è pronta a dare una rapida approvazione il presidente accetterà il risultato di elezioni imparziali e libere così la portavoce della Casa Bianca ha raddrizzato il tiro dopo che ieri e per la verità ormai da settimane Donald Trump ha messo in dubbio la transizione pacifica del potere il prossimo 3 novembre nel caso di sconfitta il punto è che il presidente non crede che le prossime saranno elezioni imparziali lo ha detto diverse volte preannunciando brogli estesi nel voto postale non ci sono prove che le preferenze inviate per posta meccanismo peraltro già cominciato in diversi stati siano causa di frodi elettorali non solo Trump ha invece che aiutare il servizio postale a compiere democratico sta cercando in ogni modo di ostacolarlo tanto da costringere il congresso a varare una legge che impedisce il depotenziamento proprio delle poste Trump è anche convinto che il voto sarà contestato che ci saranno ricorsi fino alla Corte Suprema per questo ha spiegato ieri tutti i giudici devono essere al loro posto domani la Casa Bianca annuncerà il nome della candidata che sostituirà Ruth Bader Ginsburg il senato la maggioranza repubblicana è pronta ad una rapida approvazione i democratici in grande difficoltà provano a bloccare tutto presentando un disegno di legge che pone un tetto di 18 anni all'incarico attualmente a vita dei giudici e che prevede per ciascun presidente solo due nomine per mandato ieri inoltre il senato ha approvato all'unanimità una risoluzione che riafferma il suo impegno per il trasferimento ordinato e pacifico del potere richiesto dalla Costituzione degli Stati Uniti il timore di tutti inclusi senatori repubblicani è che si creano gravi problemi di ordine pubblico vista la tendenza dei sostenitori di Trump ad agire armi in pugno su indicazioni del presidente come è accaduto negli stati che durante il covid hanno tentato di imporre quarantene distanziamento sociale e mascherine obbligatorie tensioni simili si andrebbero a scontrare con quelle legate alle proteste di Black Lives Matter che hanno visto una recrudescenza dopo che il procuratore del Kentucky non ha accusato il poliziotto responsabile della morte di Breonna Taylor uno dei volti della protesta di omicidio ma solo di negligenza in Italia adesso con il governo che mette in cantiere la riforma delle fisco un piano dedicato ai consumatori oggi tra l'altro l'Istat sottolinea che a settembre è migliorato il clima di fiducia non solo dei consumatori ma anche delle imprese dicevamo del piano che riguarda appunto tutti noi e prevede il cashback e i cosiddetti contanti indietro vediamo di che cosa si tratta chi più spende più guadagna e potrà accedere allo stanziamento da 3 miliardi l'anno messo in campo dal governo per incentivare a partire dal prossimo dicembre i pagamenti elettronici carte di credito di debito bancomat bonifico bancario postale e altre applicazioni e disincentivare l'uso del contante meno tracciabile dal fisco con un potenziale maggior gettito fiscale per l'Italia di 29 miliardi e mezzo di euro se ne è parlato molto negli ultimi anni adesso lo ha anticipato lo stesso premier il piano cashless letteralmente senza contante appunto sta per diventare realtà con il rimborso del 10% sugli acquisti effettuati tramite transazioni digitali che in Italia sono ancora ben sotto la media europea appena 60 operazioni pro capite nel 2019 contro ad esempio le 350 del Regno Unito l'incentivo non riguarderà però le spese online già tracciabili ma solo quelle in negozi fisici l'uso delle banconote nel paese è ancora duro a morire mentre il cashless è un progetto centrale per il governo per la modernizzazione del paese per cambiare le abitudini dei consumatori in linea con l'Europa per un sistema più digitale più veloce più semplice e trasparente non privo però di aspetti delicati sotto il profilo della privacy per questo è stato chiesto il parere del garante il piano stabilisce chiaramente un tetto di spesa per il quale si potrà ottenere il cashback ossia un massimale di spesa di 3.000 euro con un rimborso massimo di 300 euro cifra fanno sapere dal governo che potrebbe anche aumentare verrà introdotto un super cashback un premio da 3.000 euro destinato ai primi 100.000 cittadini che nel corso dell'anno effettueranno il numero più alto di pagamenti in modalità elettronica a prescindere dall'importo delle transazioni e poi una lotteria degli scontrini legata sempre a pagamenti con moneta elettronica budget iniziale 50 milioni di euro e premi singoli che potranno arrivare fino a 5 milioni di euro infine dal primo gennaio prossimo la soglia dei pagamenti contactless verrà progressivamente aumentata a 50 euro rispetto all'attuale tetto di 25 ci fermiamo adesso subito dopo la pagina sportiva vi aspettiamo eccoci di nuovo in diretta intanto c'è una seconda persona fermata per l'attentata a Parigi davanti all'ex redazione di Charlie Hebdo è stato fermato nel quartiere della Bastiglia questo per quanto riguarda la cronaca ma adesso c'è la pagina sportiva cominciamo con il calcio perché domani c'è la seconda giornata con 4 anticipi mentre si aspetta il parere delle CTS e il comitato tecnico scientifico sulla possibile graduale riapertura degli stadi torna il campionato ma non il pubblico negli stadi almeno per il momento ieri le regioni si sono pronunciate in favore della riapertura degli impianti al 25% della capienza tutte tranne il Lazio dove Zingaretti resta fermo sul limite dei mille spettatori ora la palla passa all'esecutivo il protocollo elaborato dal ministro dello sport Spadafora e approvato dalla maggioranza dei governatori oggi arriverà sul tavolo del comitato tecnico scientifico e del ministro della salute Speranza il via libera al ritorno graduale dei tifosi caldeggiato da Federcalcio e Lega Serie A non sembra però immediato prevale infatti la linea della prudenza che consiglia di valutare ancora per qualche settimana la curva dei contagi una parziale riapertura degli spalti potrebbe forse avvenire da metà ottobre sotto la minaccia del virus che non ha risparmiato nemmeno il milanista Ibrahimović domani intanto scatterà la seconda giornata e tra i quattro anticipi c'è anche il debutto stagionale dell'Inter rinviata al 30 settembre la gara dello scorso weekend a Benevento i nerazzurri esordiranno a San Siro contro la Fiorentina dopo l'arrivo di Vidal Conte chiede un altro rinforzo a centrocampo l'obiettivo è sempre Canté valutato 50 milioni dal Chelsea cifra che Marotta dovrebbe ricavare dalla cessione in Inghilterra di Skriniar chiesto dal Tottenham di Mourinho in caso di partenza del difensore slovacco salgono le quotazioni di Smalling rientrato al Manchester United dal prestito alla Roma le alternative sono Milenkovic della Fiorentina e il ventenne turco Kabak dello Schalke 04 sempre domani primo impegno stagionale anche per la Lazio aspettando qualche sorriso in più dal mercato la squadra di Simone Inzaghi vola a Cagliari dove è appena sbarcato l'esperto Godin il centrale ex Inter ha firmato un triennale ed è già pronto a scendere in campo nel 4-3-3 di Di Francesco domenica poi il big match Roma-Juventus Dzeko affronterà la formazione che poteva essere sua con la fascia al braccio il bosniaco resta capitano dopo il chiarimento avuto con Fonseca costretto a battere i bianconeri per allontanare l'ombra di Allegri e cancellare lo zero in classifica causato dalla sconfitta a tavolino di Verona buone notizie invece per Pirlo Di Bala è tornato a lavorare con il gruppo e all'Olimpico potrebbe partire dalla panchina così come il nuovo acquisto Morata intenso fine settimana anche per i motori la Formula 1 domenica scenderà in pista a Soci per il Gran Premio di Russia la moto GP stradiscena invece a Barcellona per il Gran Premio di Catalogna era inevitabile la vigilia del Gran Premio di Russia sul circuito di Soci dove la Mercedes ha sempre vinto e dove solo la Ferrari del passato ha creato qualche problema ai piloti della scuderia anglo-tedesca non poteva che essere caratterizzato da un tema praticamente obbligato il record di vittoria in Formula 1 appartenente a Michael Schumacher i 91 successi che hanno proiettato lo sfortunato tedesco nella leggenda sembravano irraggiungibili e invece Lewis Hamilton è ormai a un passo dall'eguagliare quel primato su un circuito in cui ha ottenuto quattro vittorie di cui le ultime due consecutive eppure è proprio lui leader di classifica a voler minimizzare sarà un onore naturalmente ma non so davvero cosa proverò Chiosa Hamilton cercando invece di riportare l'attenzione sulla gara di domenica una gara che però a rispetto dell'understatement del sei volte campione del mondo sembra poter avere un esito diverso da quello che sembra già scritto solo se domani le previsioni dovessero confermare pioggia in arrivo sulle rive del Mar Nero altrimenti è davvero difficile immaginare un copione diverso da quello di tutti gli anni precedenti in cui solo la Ferrari dei tempi migliori è riuscita ad insidiare minimamente l'egemonia nero-argento con sei podi a togliere suspense concorre anche un'altra statistica che riguarda la seconda forza in campo la Red Bull non è mai salita sul podio di Sochi e sarà da vedere se la voglia di riscatto di un Verstappen a secco di punti nelle due gare italiane di Monza e del Mugello riuscirà a colmare il gap mentre è davvero difficile sperare in qualche passo avanti della Ferrari che nonostante alcuni step di aerodinamica resta lontana anni luce dalla monoposto che lo scorso anno Leclerc portò in pole position ancora una volta insomma la vittoria sembra essere una questione tutta interna al team Mercedes con Bottas che proprio a Sochi ottenne la sua prima vittoria in carriera a cercare di arginare la rincorsa di King Hamilton a Kaiser Schumi a suon di nuovi record e a proposito di record e prosecuzioni di carriere non si può non fare un accenno a Valentino Rossi alla vigilia del Gran Premio di Barcellona l'immarcescibile dottore della MotoGP ha ufficialmente annunciato il nuovo contratto con il team Yamaha Petronas un contratto al momento limitato al 2021 ma nel caso di mostri come Rossi mai dire mai adesso c'è Tagadà grazie per averci seguito e buona giornata a tutti voi a tutti i nostri grazie a tutti stai grazie a tutti brazie a tutti e buona giornata benissimo grazie a tutti grazie a tutti e buona giornata t see